Allora bella raga noi siamo Horror Channel Mi stavo anche scordando il nome Vabbè passiamo oltre Allora io sono Riziano e lui è Francesco I nostri amici di Instagram sono Franciferro-06 Tizzi non Trattino basso Aspetta Tizzi trattino basso non Un applauso Allora vabbè Anna andiamo oltre Oltre queste cazzate qua Allora sto canale Voi ci mandate le vostre storie su Instagram E noi le esponiamo nei video Sono dislessico Allora voglio precisare Che noi non stiamo copiando Horror Maniaci ma stiamo solo prendendo spunto Da lui Perché se no se non dice questa cosa qua Ci stanno tutti i bimbi minchia che mi dicono Oh avete copiato Horror Maniaci Ma lo sai che sembra Che stai a parlare con me Vabbè dai Allora passiamo oltre Comunque i nostri profili Siamo già li ho detti Bella raga Questa qua era la intro del nostro canale Spero che ci arrivi subito Una bella storia da esporre Bella raga